Grazie a tutti Aspetta, deve fare... Perché il castello non può essere lasciato a se stesso, alla merce dei vandali e dell'incuria come è stato nel corso di questi ultimi... ...e sono giunti qui anche dalla provincia di Trindisi e dalla provincia di Necce a tutte le nostre iniziative... ...e con questo ho finito, ti vuole dire qualcosa? Grazie a tutti Grazie a tutti Cercando di mettere giù tutte le asce della guerra, sicuramente più visivi si raggiungeranno, perché noi siamo veramente propositivi e ottimisti Grazie a tutti 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 Vieni Mimo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti